Questa è la storia di un gruppo di strani individui legati dagli eventi che avvolgono Londra tra il 1760 ed il 1800. Sono storie di persone comuni che seguirono il loro destino, che scrissero la loro vita ed affrontarono indicibili eventi. Cose che non finirono sui libri di storia di qualche nobile, nemmeno forse in qualche giornale importante, ma che fu possibile trovare tra le pagine di quei racconti dell'orrore ad un penny venduti per le strade della città. Uno di questi racconti fu titolato dall'autore come Expira with Tremens. I più colti avranno notato come tale dicitura sia erronea nella sua esposizione, ma d'altronde questi racconti venivano venduti ad un penny. Tornando a noi e a questo racconto, tutto ciò iniziò in una notte londinese come tante altre, nebbiosa, piovosa e con pochi coraggiosi ad affrontare un autunno piuttosto rigido. Coraggiosi per giunta. Solo per non offendere chi dal lavoro notturno faceva la propria fortuna o l'unico momento in cui poteva davvero aggirarsi per la città, senza per questo essere malmenato. Le campane della nave risunarono nel molo 7 di Shae Thames. Una nave attesa da molti quella notte. La Tomorrow's Hurricane era la nave incaricata di trasportare un oggetto molto prezioso proveniente dall'Italia per conto del noto collezionista Webster Rickey. Miss Walker era in trevidante attesa di vedere quell'oggetto ed immergersi nello studio del testo intagliato nel legno, mentre Mr. Lamarck aveva già preparato alcuni studi sul suono, sull'acustica, sulla resistenza di corde e martelletti, fin anche la finitura della pelle che rivestiva questi ultimi. Mr. McFly, insieme almeno nobile Mr. Barnett, ma comunque uomo di parola, erano sul carro a sopportare la scarsa respirazione di Mr. Webster. Minuti interminabili furono quelli che separavano la nave dall'attacco. Ancor più lunghi furono quelli dello scarico della merce. Quando dopo diversi altri imballaggi si iniziò a muovere la spedizione della Gemini, la società incaricata al recupero, l'aria iniziò a riempirsi di una suave melodia. Da prima lontana, come se le note provenissero dal fiume, per poi discendere dal cielo come una pioggia torrenziale che solo a Sid White si poteva vedere. Note tristi, lugubri, note che toglievano il respiro, che vibravano e spezzavano i cuori più deboli. Lo stesso Webster all'udire tale melodia iniziò a mancare. L'aria diventava via via sempre più umida, pesante, e la visibilità sempre più ridotta. Nell'avanzare della Caligine, le prime grida di uomini di porto e di mare, fecero rizzare i capelli all'unica donna della zona abbastanza folle da arrischiarsi a tardanotte con così tanti signori. Gli occhi di McPay o Chris si muovevano rapidi perché era certo che sarebbe accaduto qualcosa. Erano giorni che arrivavano dispacci sulla cattiva sorte che seguiva la nave e di tutte le vicende che aveva dovuto affrontare il carico da essa trasportata. Chissà se un giorno scriveranno una storia sul fortepiano Cristofori e delle vicende del suo viaggio verso Londra, ma lo scopriremo forse un giorno. Ma comunque, quando l'uomo dai loschi affari, Mr. Barnett, se non lo ricordaste, percepì l'arrivo di un carro, non batte ciglio, saltò giù dal cocchio in stile Luigi XVI e corse nella nebbia, sparendo quasi subito alla vista di Mr. McFly. Altro uomo d'azione, ma non troppo avvezza a colpi di testa come questa. L'esploratore e faccendiere della Gemini aveva intessuto gli accordi con Bartolomeo Cristofori per il fortepiano, oggetto che era destinato a Charles Avison per essere poi dono alla regina Carlotta da poco assunta a questo importante ruolo. Mr. McFly non credeva che dalla cassa provenisse proprio il suono del fortepiano, tanto da indurlo a seguire le orme del collega per quella sera e saltare giù dal cocchio di Mr. Webster per dirigersi poi verso la nave. Una corsa sfrenata quella dei due, uno per impedire che quella cassa fosse portata via, l'altro per evitare che ci fossero truffe dietro questa pantomima. Mentre i due però si gettavano nel pericolo, Miss Walker e Mr. Lamarck poterono affondare i loro sguardi all'interno della nebbia, troppo densa e spessa per essere normale. Una normalità confermata dalle grida di uomini avvezzi alle stranezze del mare che lasciavano intendere nulla di buono. Figure spettrali si manifestavano nella nebbia, avvolgevano coloro che trovavano sul loro cammino, per poi lasciarli esanimi a terra, privi di qualsivoglia calore. Calore. Edith ed Henry convennero senza parlare che poteva essere ciò che cercavano quelle anime inquiete. Sembravano essere ciò che molti sciocchi ritenevano fantasmi, ma che, ovviamente, erano solo frutto dell'immaginazione di poveri stolti e creduloni. Le figure ammantate nella nebbia forselo il loro sguardo poi verso gli unici ancora in grado di emanare il calore. Loro. Il tutto mentre Magpie era legato con la corda al carro che stava portando via la cassa contenente il forte piano Cristofori e mentre Callum usciva dall'acqua dopo esserci si buttato. Zuppò da cima a fondo, infredolito per l'aria gelida che aleggiava tutto intorno. Non fu preso di mira dalle allucinazioni, benché anche egli poteva ben distinguerle nella caligine. Edith ed Henry si misurò al posto del cocchiere che aveva perso anche lui il proprio calore, cadendo così al suo posto. Webster non fu da meno ad arrendersi a quell'innaturale avvenimento, essendo anche notoriamente molto superstizioso. E così, l'uomo e la donna si gettarono di tutta fretta all'inseguimento del carro cui Magpie era attaccato con una corda. Callum salì al volo, prese il braccio di Henry e fu issato sopra. I due carri, ora, sfrecciavano a tutta velocità per le vie fangose della città. Una sbandata dopo l'altra, con la musica ancora che riempiva le orecchie dei presenti. Il primo carro era già all'imbocco di Tully Street dopo essere passato dalla Stolev Street, mentre il secondo era solo a metà strada di quest'ultima. Il cocchio non era adatto a quella velocità né alle strade infangate di Londra. I due cocchieri improvvisati se ne resero presto conto, decidendo che era meglio usare solo i cavalli. Edith ed Henry si misero in groppa ognuno rispettivamente su un equino, mentre Callum aveva già preparato tutto per lasciare liberi al galoppo le due bestie. Con un colpo del piede liberò i due animali e loro tre poterono gettarsi più rapidamente all'inseguimento dei ladri. Il carro si infranse non troppo lontano, quasi colpendo una donna di facili costumi che avrebbe reso meno fredda quella notte a qualche uomo in cerca di compagnia. Il rumore svegliò il quartiere o almeno diverse case, ma i tre non lo avrebbero saputo fino all'indomani. Scarichi del peso del cocchio da passeggio, i cavalli ebbero maggiori possibilità di raggiungere il carro dei ladri, ma fu mentre si verso Black Man Street, che uno degli uomini cadde venendo così calpestato dalle ruote appesantite del mezzo. Magpie, grazie a quel sobbalzo, riuscì a hissarsi su e a trovare un po' di equilibrio nonostante fosse ricoperto di sangue, fango e sporcizia varia, di cui non farò menzione benché il testo è molto esplicito in merito. I suoi compagni, dunque, erano dietro di lui. Poteva osservarli dalla posizione in cui si trovava, riuscì a scorgere Henry mentre si fermava dall'uomo caduto e Callum, che era avvinghiato alla vita di Edith. La musica riportò la sua attenzione sul carro e sul cocchiere. Doveva porre un freno a questa folle corsa, così. Preso il proprio vecchio coltello, si gettò alle spalle dello sconosciuto piantandogli l'oggetto acuminato proprio tra le scapole. Un colpo fortuito per lui, meno per l'avversario che strattonò alle redini facendosi che il carro si ribaltasse con tutte le bestie e il carico. Una caduta rovinosa che portò i cavalli alla morte, il carro su un fianco con due delle quattro ruote ormai inservibili e la cassa contenente il forte piano completamente distrutta, compreso il suo contenuto. Magpie, per puro miracolo, era riuscito a gettarsi dal mezzo poco prima dell'incidente che sarebbe potuto risultargli fatale. Edith e Callum giunsero pochi attimi dopo accertandosi della morte dell'uomo e sorprendendosi del fatto che nella cassa non vi era ciò che cercavano, ma che la musica proveniva da un pezzo di metallo piuttosto grande mai visto prima di allora. Edith guarda l'oggetto. Le scritte in alemanno facevano intendere la sua provenienza dalla Germania o dalla Svizzera, ma non comprendeva come quell'oggetto, composto da una molla, un cilindro dentato e tante piccole palette metalliche, riuscisse a produrre una melodia. La donna mise in tasca l'oggetto e con i suoi tre compagni tornarono sui loro passi alla ricerca dello scienziato. Henry era intento a rovistare nelle tasche del morto quando sopraggiunsero i suoi compagni e a poco servirono le parole dell'uomo per far comprendere cosa fosse accaduto, chi fossero lui e il suo compare e perché hanno tentato di rubare il Cristofori. Henry ottenne solo la blanda descrizione del mandante e di uno stemma, un bel po' di sterline e poco più ad indicare che tutto fosse organizzato e non improvvisato. Il porto era sgombro dalla nebbia, ma la persistente umidità non aveva lasciato il passo. Guardandosi intorno alla ricerca di qualche altro dettaglio, fu Chris ad accorgersi che un secondo carro era stato lanciato veloce nella direzione opposta a quella presa da loro. Di Mr. Webster nessuna traccia, ma erano certi che l'uomo gracilino si fosse nascosto chissà a dove. Non dovevano perdere tempo, una pioggia improvvisa avrebbe cancellato le tracce profonde del carro. E così, con i cavalli presi dal cocchio del collezionista, seguirono il terzo ladro. L'enorme cancello era divelto, mangiato letteralmente dal tempo e dalle intemperie. Gli alberi del viale, le statue e tutto ciò che era adornamento era poco più che un pallido ricordo dei tempi passati. Solo lo stemma dei due leoni rampanti che sorreggevano uno scudo erano ancora ben interpretabili. E le rassomiglianze, con l'anello descritto ad Henry, unito alle tracce di carro, oltre il cancello, facevano ben sperare di essere sulla via giusta. La vecchia magione aveva scenduto sotto la forza del tempo e delle fiamme. Ma una musica, forse più tetra ed esolante di quella udita nel porto, faceva da sfondo al triste destino di quel luogo, della famiglia che vi dimorava, e dall'oblio che il tempo porta ai ricordi. I quattro poterono assistere ad una danza macabra fatta di cadaveri marcescenti in movimento, ciondolanti ed avvizziti. Donne, vecchi, bambini. Se ne potevano contare in quantità. I loro occhi spenti guardavano nella direzione della musica, per quanto i loro corpi invece seguivano un'indole ben più macabra. Edith, Callum, Harry e Chris volsero lo sguardo ed i muscoli verso la casa, rintanandosi oltre il marcio uscio, sormontato dallo scudo sorretto dai due leoni. Oltre, nella sala grande d'ingresso, vi era un uomo seduto dietro un piano, con il volto origato dalle lacrime e la musica che fluiva dalle dita lente sui tasti. Ogni martelletto, lanciato con fuoga verso la corda, produceva una nota struggente. Una danza che per Harry ed Edith era più che una melodia maledetta, sembrava essere una richiesta, una sopplica. Callum e Chris non volevano perdere tempo, volevano fermare il suono tetro e minaccioso ad ogni costo, compiere ciò per cui ei sarebbero stati pagati, e far sì che l'uomo avesse pagato per l'assassinio di onesti lavoratori del porto. Furono i due studiosi a tenere a freddo la natura bellicosa degli altri due. Gli studiosi sapevano che qualcosa andava completato, che tutto ciò aveva uno scopo. Come il loro era quello di portare la verità nel mondo, lo studio e la scienza oltre l'ignoranza. Così attesero che il pianista concludesse la sua composizione. I morti, caddero esanimi e fuochi fatui, si alzarono verso il cielo, disperdendosi nella leggera luce del mattino. Il volto del pianista, rigato dalle lacrime e dalle sue parole di ringraziamento, per non averlo interrotto, risuonarono come un toccasana per l'anima. Saldamente legato al carro, il fortepiano Cristofori stava raggiungendo la sede della Gemini Inc., essendo Webster scomparso dal molo. Mentre la strada scorreva sotto le ruote di legno e il fango produceva quel suono fastidioso, i quattro ripensarono alla storia del pianista, erede della famiglia Lette, che cercava il perdono dei propri avi per essere sopravvissuto alla caccia che essi furono soggetti a sostenere. Ripensarono alle parole dell'uomo che, avendo conosciuto le proprietà del fortepiano, voleva chiudere il cerchio sulle vicende familiari e sull'onta che la nonna dovette portare. Un'onta, per chi fosse erudito di araldiche e di famiglie, avrebbe potuto associare a quella famiglia ditata di essere untrice della malattia che quasi distrusse Londra oltre cento anni prima. Del pianista non si parlò più. Al porto non vi erano cadaveri, bensì solo uomini svenuti per il gran freddo, e su Webster e del suo fortepiano venne messo il sigillo della Gemini. Questa è Expiravit Tremens, la prima sessione di gioco per l'Ex Occultum, narrata da Giuliano per la Tavola Rotonda, associazione di promozione sociale. La storia è raccontata sulla base degli avvenimenti di gioco, sulle scelte dei giocatori e su quanto hanno vissuto i personaggi in prima persona. Spero vivamente che questo racconto vi sia piaciuto, e vi invitiamo a seguirci ancora, ce ne saranno altri di puntate così.